Hashtag 4J SOS Mi raccomando Delly Fai a f*** Devo fare questo video qua per fare SOTI SOS è uscito un video dove vengo Si parla di aggressione da un dito di 18 anni Ho letto dei commenti dove dicevano ma sarà un rezzo Sapete io ne ho parlato con Sio Meso Che è una persona molto coscienziosa A presto A presto